Buonasera, cari amici. Sono sempre il vostro caro cameriere Henry Jackson, del Club dei Vedovinieri. Oh, scusate, in questo periodo sto sperimentando maschere di cera. Ecco, ne sono fatta una più o meno simile al mio volto. La lascio qua un'altra. Bene, mentre il Club dei Vedovinieri è di là, che sta ancora mangiando al tavolo, si è concluso il nostro primo enigma. Il nostro primo enigma del nostro Club dei Vedovinieri, che voglio ringraziare per quelli che per primi si sono lanciati nel raccontare la storia mitica del cuore rivelatore. Ma abbiamo tempo da far passare, chiusi qua in questo ristorante. Fuori non possiamo uscire, c'è questa nebbia strana, dove si intravedono personaggi così misteriosi. Appena esci, eh, scompari. E allora meglio stare al rifugio dentro il ristorante. Mangiamo e ci raccontiamo storie di enimmi o storie poliziesco, misteriose o fantastiche di grandi autori. E proprio per questo, prima di tornare a servire il Club dei Vedovinieri, che voglio ringraziare, che vi tengono sempre con loro, nonostante questo periodo dove fuori c'è la nebbia e dentro c'è apparentemente la sicurezza, andremo a raccontare un secondo enigma. Dopo, appunto, la storia del cuore rivelatore, il secondo enigma ha sempre Edgar Allan Poe come autore, ed è proprio perfetta di questi tempi in cui fuori c'è questa nebbia misteriosa, che fa così paura e che è così pericolosa. Andremo a raccontare la storia della maschera della morte rossa. Maschera, un po' di azione. Il calco del mio volto. La maschera della morte rossa. Non vi voglio anticipare nulla, ma credo che i miei amici del Club dei Vedovinieri abbiano scelto correttamente, scusate, ma io sono sempre in perfetto stile, vedete, camicia bianca, smoking, ho tolto il farfallino, ma mi sono permesso, visto che mi hanno lasciato la libertà, di mettere una sciarpa un po' più alla moda. Credo che, tornando a noi, la maschera della morte rossa sia di assoluta attualità. Non voglio anticiparvi nulla. Ci sono stati anche dei casi nel ciò che sta accadendo fuori di persone che, magari molto facoltose, come il nostro prospero protagonista della storia, che pensando di chiudere tutti fuori e tenendo poche persone all'interno, di essere assicuro. Ma vedremo, di capitolo in capitolo, appunto, con questa metodologia un po' di serie televisiva. Scusate, un buon bicchiere di rosso. Ogni tanto lo rubo dalle membri del Club. Non se ne accorgono, si fidano di me. Direi attuale, perché molti sono chiusi ricconi, non so, in grandi alberghi, pensando di tenere fuori il male. Ma il male si può infilare ovunque. Come sempre, mi hanno lasciato il privilegio di introdurre il primo capitolo della Maschera della morte rossa. E con grande onore, e sicuramente non all'altezza del Club dei Medovinieri, vado a introdurre. La morte rossa aveva per parecchio tempo devastato la regione. Non si vide mai peste così fatale e orribile. Il suo emblema era il sangue. Il rossore e l'orridezza del sangue. Cominciava coi dolori acuti, una vertigine improvvisa, e poi una stillazione abbondante attraverso ai poli, la dissoluzione dell'organismo, delle macchie rosse sul corpo e specialmente sul viso. Sul viso della vittima. La mettevano al bando, al bando dell'umanità. E le precludevano ogni soccorso a ogni simpatia. Il contagio, il progredire, i risultati della malattia erano questione di una mezz'ora. Con questo incipit vi lascio al secondo capitolo della maschera della morte rossa. Continuate a seguire il Club dei Medovinieri. Sono ragazzi e ragazze simpatici, di tutte le età, di tutti gli strati sociali. E a me fa piacere servirli. Sono un po' il loro, non solo il loro caveriere, un po' il loro anfitrione. Seguiteli. Teatro da Finimondo. Capitolo 2. Appuntate la maschera della morte rossa, i vedovinieri. Io intanto torno a sperimentare le mie maschere di cera. E ricordate. Il contagio, il progredire, i risultati della malattia erano questione di una mezz'ora. Alla prossima puntata. Dunque. Alla prossima puntata.